Mie cari signore, se voi siete in menopausa e non state ottenendo dei risultati, non riuscite a dimagrire, la colpa non è del vostro corpo. Perché in menopausa, per fortuna, il metabolismo funziona sempre. Funziona sempre il nostro corpo. Non è che smette di funzionare. Non è che entriamo in menopausa, ah ok, questa donna è in menopausa, allora io metabolismo mi addormento, il cuore non pompa più sangue, non funziona più niente. No, non funziona così. In menopausa si può dimagrire, anzi si deve dimagrire, si deve fare un'azione verso il raggiungimento di un fisico macrotonico ed armonico. Perché se voi non agite, se non fate qualcosa, in menopausa tendete ad ingrassare di più. E più rimandate, più, come dire, vi abbandonate all'idea che tanto il vostro corpo ormai è anziano perché siete in menopausa, più tenderete ad accumulare grasso nel girovita, nell'addome, e a sviluppare il classico fisico da uomo che si sviluppa in menopausa. Perché con la menopausa si accumula grasso nella parte alta del corpo e quindi sviluppate un classico fisico androide, cioè tipo uomini. Perché? Perché c'è la carenza di estrogeni.